Il taglio del nastro simbolico di questa mattina a San Nicolò nella tabaccheria del signor Mario Polito non è una scelta comunque dell'amministrazione, bensì della Novares, che è l'associazione di tabaccai. Questo è un coinvolgimento con i tabaccai, un ulteriore tassello che l'amministrazione pone per facilitare ai cittadini l'ottenimento dei certificati. Infatti, oltre a questa tabaccheria, ci saranno tante altre in tutto il comune di Teramo per cui i cittadini, senza doversi recare per forza all'anagrafe, potranno dirigersi al tabaccaio di fiducia. Il procedimento è semplicissimo, si rivolge al tabaccaio, si chiede il certificato e il tabaccaio lo emetterà. Naturalmente a questo servizio se ne aggiungono già quelli fatti negli scorsi periodi come per esempio la certificazione online attraverso il sistema di certificazione del comune. C'è un sistema, una piattaforma Novares chiamata, che è una società della FIT, Federazione Italiana Tabaccai. Dopodiché, inserendo tutti i dati, mi esce fuori il certificato, è un'autocertificazione del cliente che mi deve firmare per liberarmi da eventuali reclami.